Ben ritrovati amici! In questa recensione daremo uno sguardo più da vicino a queste ricetrasmittenti marchiate Retevis, modello RT5RV, commercializzate all'interessantissimo prezzo di 56,99€, prezzo aggiornato a marzo 2016. Molti potrebbero pensare che il prezzo è un po' elevato ma vi posso garantire che queste ricetrasmittenti sono un prodotto di altissima qualità e valgono ogni centesimo del prezzo pagato. Diamo un breve sguardo al contenuto della confezione. Prima di tutto troviamo le ricetrasmittenti con lunga antenna non movibile collocata sulla parte superiore. L'antenna può essere facilmente asportata per facilitare il trasporto. Sul retro abbiamo la batteria che può essere sganciata con estrema facilità. Batteria da 7,4V 1800 mAh. Ne parleremo ampiamente in seguito. Oltre alle ricetrasmittenti nella confezione abbiamo un manuale di istruzioni in lingua inglese. Sicuramente l'italiano avrebbe fatto comodo per aiutarci a districarci meglio tra tutte le funzioni di questa ricetrasmittente. Abbiamo poi un laccetto per il trasporto, una clip da applicare sul retro della ricetrasmittente per poterla legare alla cintura o allo zaino. Abbiamo poi le cuffiette con microfono integrato che ci aiuteranno a poter usare la ricetrasmittente continuando ad avere le mani libere dotate di questo particolare spinotto cuffie microfono. Abbiamo anche poi una mollettina per poter attaccare le cuffie alla maglietta o alla camicia. Copri auricolare in spugna. Abbiamo poi la basetta per la ricarica della batteria interna. Quindi potremo ricaricare la batteria montata direttamente sulla ricetrasmittente. Allora diamo uno sguardo più da vicino alla nostra ricetrasmittente. Iniziamo dalla parte superiore. Quindi abbiamo il potenziometro che è usato sia per l'accensione che per la regolazione del volume. Il primo scatto accente poi potremo aumentare il volume. Abbiamo poi il led attivabile mediante il terzo tasto laterale che è contraddistinto dalla scritta MONI. Quindi prementolo, naturalmente devo accendere la ricetrasmittente, premendolo si attiva il led, premendolo una seconda volta inizia a lampeggiare per poi spegnersi alla terza pressione. L'antenna è avvitata sulla ricetrasmittente ed è alta quanto essa. Sulla parte laterale abbiamo tre pulsanti. Il primo, contraddistinto dalla scritta call e di un vivace colore rosso, serve per attivare la radio che può tenerci compagnia in situazioni di tranquillità. Premendo l'allungo invece attiva una modalità allarme per segnalare la nostra presenza. Quindi premendo allarme il led inizia a lampeggiare, viene emesso questo suono e appare anche la scritta allarm sul display. Attiviamo invece la radio. Il volume si regola sempre dalla parte superiore. Potremmo scegliere le frequenze. La ricezione è davvero molto buona. Lo ascoltate a lungo e il segnale è sempre molto forte e potente. Quindi spegniamo la radio. Abbiamo poi il tasto PTT che serve appunto per trasmettere la nostra voce. Vedremo bene in seguito. Passiamo ora alla parte frontale. Abbiamo quindi l'enorme display retroilluminato di diversa colorazione. Vi farò vedere bene in seguito. Display a tre righe con indicazione dello stato della batteria sul lato destro. Abbiamo il pulsante che serve per poter variare la gamma di frequenza. Puoi poter scegliere il band. Poi abbiamo il tastierino numerico. Pulsante menu con i pulsanti per scorrere all'interno del menu e il pulsante di uscita. Il menu è davvero molto ricco. ci mette a disposizione un'infinità di funzioni. Tra cui possiamo ricordare la funzione squelch. Lo squelch è un controllo che regola la sensibilità del ricevitore, ossia imposta il livello dei segnali radio in ingresso. Inoltre può influenzare anche la capacità della ricetrasmittente di captare i segnali radio in ingresso. Non influenza assolutamente il volume del segnale. Regolando lo squelch su livelli alti si riduce la sensibilità del ricevitore. Regolando invece lo squelch su livelli bassi il ricevitore capterà un gran numero di segnali deboli, inclusi quindi rumori statici e atmosferici. Potrebbe produrre quindi uno scricchiolio o un rumore attraverso il viva voce oppure attraverso le cuffiette se sono ad esso collegate. Quando non si sta ricevendo alcun segnale vocale. Quindi potremo agire lo squelch per modificare la qualità di ricezione e quindi ottenere dei risultati migliori. Abbiamo poi tra le varie funzioni la funzione VOX. La funzione VOX permette di parlare, di poter usare il ricetrasmettitore senza dover premere il tasto PTT. Quindi appena il ricetrasmettitore rileverà la nostra voce attiverà automaticamente la modalità di trasmissione. Anche in questo caso possiamo impostare un livello di sensibilità in modo tale che la trasmittente possa attivarsi soltanto con la nostra voce evitando che possa attivarsi anche con rumori ambientali. Funzione quindi molto utile che può aiutarci ad utilizzare la ricezione trasmittente avendo comunque le mani libere. Tra le altre impostazioni del menu abbiamo la possibilità di poter variare l'illuminazione del display perché come vi dicevo quando la ricezione trasmittente non è in funzione abbiamo questa illuminazione viola. Se ad esempio inizio ad attivare la trasmissione del segnale adesso attiva la funzione box. Prova, prova, prova. Si è attivata la trasmissione e il display è diventato rosso. Quando invece riceve un segnale il display diventa verde. Potremo comunque modificare questi colori a nostro piacimento e quindi personalizzare l'esperienza d'uso. Tantissime sono le funzioni che questo ricetrasmittente ci mette a disposizione. Infatti nel menu troviamo ben 40 voci differenti. Queste comunque sono le fondamentali. Le altre sono indicate soprattutto per utenti esperti che desiderano personalizzare al massimo le ricetrasmittenti. Spero che questa mia recensione possa esservi di aiuto. Vi ringrazio e vi saluto. Alla prossima!